Sveglia, 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 sennò quelli ci passano in testa e a noi ci sembra che so eri di linea, questa si intitola la società consumistica olistica. La società consumistica olistica che fa, organizza seminari, workshop e festival, fa da esca le gentiche e curiose abboccano, anche se il lavoro più importante lo fa l'individuo su di sé. Proprio per questo motivo a qualcuno non piace che ci sia consapevolezza esoterica ed armonia, e così provano ad offuscare frate sole, ma pensate, sta gente è convinta di essere addirittura meglio del creatore. E adesso accogli l'evoluzione sorridendo, poiché... Quelle che chiami nuvole, in realtà sono sci e chimiche, condensazioni artificiali di esperimenti troppo chimici su di noi. Noi siamo ben oltre ogni pellicola, fantascientifica di Hollywood, lo stato di coscienza devi alzare, se le sci e chimiche vuoi contrastare. La società consumistica olistica che fa, organizza seminari, workshop e festival.